Abbiamo fame di punti perché nelle ultime cinque partite ne abbiamo fatti soltanto due, questo non rispecchia poi il valore della squadra. A Bologna abbiamo fatto bene, molto bene, purtroppo però abbiamo perso. La prestazione mi lascia positivo perché la squadra ha lottato, abbiamo preso due gol proprio da incoscienti, però abbiamo fatto veramente una grande partita, 20 tiri in porta, buone giocate, però questo è quello che raccogliamo, zero punti. Allora dobbiamo raccogliere punti, siamo vicini alla meta e dobbiamo spingere. Il Torino è una buonissima squadra, si sta risollevando, ha uno spirito battagliero da Torino, ha vinto in settimana, mercoledì, contro il Sassuolo non mollando mai, stando sotto di 2 a 0, per cui non è la prima volta che gli succede perché già da 3 a 1 contro l'Atalanta era riuscita a fare 3 a 3, per cui andremo a prendere una squadra veramente difficile. Loro hanno due attaccanti là davanti che sono due punti di riferimento molto importanti, creano molti cross, per cui attenzione alle loro ripartenze, attenzione ai loro cross perché hanno appunto gente che riempie bene l'aria e sa colpire di testa e attenzione alle palle inattive, mai abbassare la guardia perché so, ho esperienza, e so che dietro ogni angolo non sai mai cosa puoi incontrare. Siamo in una posizione per il momento privilegiata, però questa partita è molto ma molto delicata. Quest'anno come ogni periodo abbiamo ripetuto i testi mappei, ci dicono che stiamo bene fisicamente, stiamo meglio dell'anno scorso, ma questa è stata proprio un po' la prova del 9, perché noi abbiamo settimana per settimana tutto quello che facciamo durante la partita, per cui i report che ci vengono, che sono poi quelli veri, quanto corri, quante volte scatti, a che velocità scatti, quanto tempo hai bisogno di recuperare per ripartire, stiamo veramente in una situazione, oserei dire, perfetta. Torregrossa ancora si sta allenando, si sta allenando a parte, molto probabilmente domani farà l'allenamento di rifinitura con noi, se non avrà problemi in panchina me lo porto. Abbiamo i Rati, questa volta Alvar, e l'ho detto e lo ripeto, Alvar è il migliore del mondo. Io credo che appunto la lotta contro il razzismo sia una cosa importante, dovremmo essere sensibili tutti quanti a questo fatto, il razzismo non c'è negli stati, anche perché gli stati sono vuoti, ci sta un po' in alcune società e tra queste ci sta anche quella italiana, quando capiremo che siamo tutti uguali poi ci sta chi è più intelligente e chi è meno intelligente, questa è una dotazione di natura che ognuno di noi ha, bisognerebbe anche saper capire gli altri. Grazie a tutti!